Ciao a tutti i Drillers, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Poké, 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 pokémon! Oui! Poké, 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 pokémon! Oui! Oggi siamo tornati qui su Adopt Me perché ragazzi oggi vi farò vedere come avere un bel Ice Golem gratis perché ve lo regalo io! Quindi mi raccomando dovete guardare tutto il video per scoprire come averlo. Se quindi siete curiosi di questo video, se volete altri video giveaway, altri video dove io vi regalo i pet di Adopt Me vi ricordo che una volta arrivati a 300.000 iscritti ci sarà un big big giveaway. Lasciate un bel mi piace adesso iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella, Instagram e TikTok li troverete giù in descrizione. Come giù in descrizione troverete il nuovissimo merch Dreamers e Never Stop Dreaming. siete ancora in tempo per riceverlo per Natale come regalo natalizio dai vostri genitori, amici, parenti, fidanzate, fidanzati e trovate giù in descrizione anche Instangaming che come al solito ha i Robux in sconto. Oggi ci connettiamo per il 430esimo giorno. Pronti? Un suono bellissimo. Abbiamo preso un big gift, le nostre 12 stellatelle e siamo... Uh, possiamo prendere la Blue Rider presto tra 25 stellatelle. No. Tra 35 stellatelle potremmo prendere il digeridù. Andiamo su close. Togliamo il nome dorato. Ok, con me chi c'è? Nessuno. Ah, io voglio vedere una cosa. Attualmente non ho golem di ghiaccio, Ice Golem, perché li ho scambiati tutti nel video che vedrete domani. Quindi io non faccio spoiler, però volevo vedere se sul tabellone c'era ancora. Dato che adesso non ce l'ho, ne approfittiamo. Vabbè, questo ancora mi manca. Questo mi manca, lo avremo tra poco. Adesso andiamo ad aprire il calendario, non ci dimentichiamo. Eggi non c'è. E invece nel journal Pets, con Origin, andiamo nell'evento di Natale. Me lo porta. Me lo porta ottenuto, anche se non è vero. Allora, la shop, ne compriamo due comunque per sicurezza. Ho da comprare un bel po' di Robux nei prossimi giorni. Che ovviamente anche io acquisterò da Instant Gaming. Quindi non è che io vi consiglio cose, se siete, perché ho la collaborazione con Instant Gaming e quindi ve lo consiglio. Io stessa utilizzo Instant Gaming per comprare cose, quindi non vi dovete assolutamente preoccupare. Allora, la prima cosa che in realtà, ragazzi, io devo fare è collezionare i Gingerbreads. È vero? Ne ho tantissimi. Molti, 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 molti si sono lamentati del prezzo alto dei pet. Io stessa mi sono lamentata con il prezzo alto dei pet e ne ho parlato anche con i creatori di Adopt Me. Dicendo, ragazzi, ma scusatemi, e questo l'hanno fatto anche altri creator. Ragazzi, ma il prezzo non mi sembra un po' esagerato? Cioè, tutti i nostri fan, buona parte dei nostri fan, si sta lamentando del fatto che i prezzi sono troppo alti. Hanno risposto che l'evento durerà comunque un mese, più di un mese. Quindi c'è tutto il tempo per fare i biscotti, i Gingerbreads. E poi hanno detto che in realtà dai giochi si guadagnano abbastanza i Gingerbreads. Io questa cosa non ne sono proprio sicura, sicura, sicura. Vediamo se o aumenterà, oppure quindi aumenteranno, può essere che aumenteranno o hanno aumentato i Gingerbreads che si fanno da ogni mini gioco. Quindi adesso vi vediamo. Non lo so. Noi la segnalazione l'abbiamo fatta. Quindi se ha preso è 40. Ok. Quindi abbiamo i nostri 640 Gingerbreads. Perché molti molti di voi mi avete detto, Franci, sono stata ore, 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 ore a giocare. Ma qua ho fatto giusto in tempo, raga. Sono meno un quarto quasi. Eh, quindi ok. Dopo domani uscirà... No, aspettate. Oggi è venerdì. Domani ci sarà... No, allora aspettate. Ho un big, big problema. Oggi è venerdì. Sì, questo video uscirà di venerdì. Ho già registrato il video di domenica, ovvero quello dove vado a scambiare Gingerbread, dove vado a scambiare Ice Golem. Perché domani ci sarà un fantastico video sulla squad, qui su Adopt Me, video che è stato registrato prima dell'aggiornamento di Natale. E quindi lunedì ci sarà il video... È bellissimo comunque quando fanno gli aggiornamenti e io ho talmente di quei video da fare, che è favoloso. Comunque dicevo, che cosa dicevo? Ah, uscirà il video come fare tanti Gingerbread. Quindi non vi preoccupate. Ne parleremo comunque bene, bene, bene lunedì. Quindi ok. Pinguino! Ok. Pinguino! Vabbè, comunque ogni volta che accedete comunque ci saranno i Gingerbread. Adesso abbiamo fatto ben 1280 Gingerbread nel giro di 5 minuti. Andiamo al centro. Andiamo a vedere qual è il secondo regalo per il secondo giorno del calendario dell'avvento. Questi non li ho fatti nel ride né fly, in tutta sincerità. Non so se mi sconfinferano. Quindi ci devo riflettere. O per un secondo ho pensato che fosse qualcosa, invece è una persona. Quindi ok. Allora, secondo giorno, eccoli lì. Questo tra poco facciamo anche questo gioco. Lo andiamo a vedere prima il calendario dell'avvento. Poi andiamo a fare il gioco. Allora dobbiamo salire sopra per andare al 2. Non mi interessa che hai fame. Ok. Soldi! Abbiamo Jeremy. Ciao Jeremy. Quanti soldi? 300 forse. Quanti soldi erano? Cioè non ci ho fatto caso. Quanti soldi erano? Non ci ho fatto minimamente caso. Ok, vabbè. Andiamo a fare anche il giochino. Questo qui. Ho, ho, ho. Sì, sì, sì. Ma cioè per farlo la prima volta dobbiamo sempre parlare con lui? Molti mi avete detto Franci, scusami. Ma segui quelli là con il carbone. Perché se segui quelli ti danno... Gli altri tre sono i gingerbread. Vero? Ma io dando che sono da uno schermo grande posso utilizzare le mie dita per dire dove si trovano le cose. Va benissimo. Allora quindi è questo centrale, questo, ok, questo e infine questo. E sono 150 gingerbread. Da quel che mi sembra di capire. Ok, secondo round. Ed infine gingerbread spostato. Quindi sono questi due e questo qui. Quindi uno, due e tre. Terzo round, dai, forza. Due da un lato. Sono gli stessi posti di prima. Ovvero questi due e questo qui. Quindi quanto ho fatto? 1200 punti. 1200 gingerbread. Quanto tempo manca per il pet rescue? Da che lato è? Dovrebbe essere... Il cincilla! Ce ne ho sempre uno solo. Eh, vale di meno. Va bene, sì, l'avevo capito. Dieci minuti, ok, per questo. Sono entrata nell'acqua e que. L'acqua e que. Ok, sta iniziando adesso. Vabbè, ma fantastico. Conferma, parliamo con lui e facciamo anche questo. Ci vediamo appena finisco questo gioco, raga. Cioè, ho fatto l'accesso in un momento perfetto, praticamente. Cioè, perché mi sono trovata che sia la cosa dei gingerbread, sia questo qua. Adesso sono le 6 meno 10. Quindi questo qui inizia alle 6 meno 10. E ogni quanto si rifà? Non l'ho capito. Allora, questi sono qui. Ci vediamo quando avrò vinto, se avrò vinto. Ok, fatto. Ma poi questo Rocky qua sotto. Ma io quando potrò mai avere Rocky? C'è scritto da quanto ricomincia? Back in. Ragazza, potresti spostare. 17 minuti. Quindi 18 minuti tutti i giochi. Dai, ma com'è possibile? Cioè, raga, sto registrando da 16 minuti. E ancora non vi ho detto le regole del giveaway. Quindi facciamo così. Mentre faccio questo, vi inizio a dire le regole del giveaway. Le regole del giveaway sono molto, molto semplici. Dovete lasciare un bel mi piace, pinguino infame. Un bel mi piace a questo video. Un bel grandissimo mi piace a questo video. Essere iscritti al canale. Condividere questo video con tutti i vostri amici che giocano ad Adopt Me. Commentare. Qui vale, ragazzi, un solo commento a persona valido per il giveaway. Il che vuol dire che potete lasciare quanti commenti volete parlando del video in generale. Però il commento inerente al video, al giveaway, deve essere uno solo. Ovvero dovete scrivere partecipo ed il vostro nome di Roblox. Soltanto partecipo, non hashtag partecipo, partecipo tutto maiuscolo, partecipo piccolo come sta scritto a schermo. Vi ho fatto l'esempio. Esempio sì, pet sì e pet no. Lo voglio dire commento sì e commento no. Dovete seguire quell'esempio. E poi, ragazzi, se ce ne avete, seguirmi su Instagram e TikTok. Se non ce ne avete, non fa niente. Questi sono più opzionali. Quindi, ragazzi, ripetiamo le regole. Essere iscritti al canale, aver lasciato un bel mi piace. Aver condiviso questo video con i vostri amici che giocano ad Optmy. Un commento a persona con scritto partecipo è il vostro nome di Roblox. E infine, opzionale, se ce l'avete, essere iscritti al canale, voglio dire, e seguirmi su Instagram e TikTok. Quindi, ragazzi, mi raccomando, partecipate in tantissimi. Non vedo l'ora di vedere in quanti partecipate. Questo video sta uscendo di venerdì 3 dicembre. Potemi prendere il mio fantastico calendario dei BTS natalizio. Allora, se esce di 3, facciamo che nel video di mercoledì l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, uscirà i vincitori del giveaway. Ma non verranno annunciati all'interno di un video, ma li troverete nella sezione community del canale. A schermo vi faccio vedere, vi ho fatto vedere un piccolissimo video, vi sto facendo vedere un piccolissimo video di come arrivare alla sezione community. Mi era stato consigliato come nome Snowy, che mi piace un sacco. Ok, non si è censurato. Da cellulare poi devo provare a metterci... Aspettate. Ahah, ce l'ho fatta. Eccolo qui, lo chiamiamo Snowy. Dress up, che cosa ti metto? Eh, secondo me ci sta, eh. Pure gli mettiamo questi. No, non gli stanno bene, no. Poi giustamente lui ha scelto proprio questo momento per addormentarsi, quindi... Ah, ha freddo, è inverno, doveva stare a caldo. Beh, non gli posso mettere le scarpe, giustamente. Ok, quindi razzi, mentre io porto il mio piccolo pet al campeggio per fargli fare qualche missione, voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo aggiornamento. Se volete vedere il video dove scambiamo il nostro Snowy. E per iscrivervi al canale, mi raccomando, tappate qui sul pallino. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale, cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video. Ciao!